Ciao a tutti amici ben ritrovati sul mio canale youtube dolce non solo video ricette questa ricetta è buonissima piacerà a tutti grandi e piccini e se vi piace tanto tanto lasciate un like e iscrivetevi sul mio canale youtube se non l'avete fatto e attivate la campanellina ciao buona ricetta a tutti per realizzare la nostra kinder fetta al latte occorre 20 grammi di cacao amaro 120 grammi di farina 00 125 grammi di zucchero a velo 3 uova di cui noi andremo a dividere i tuorli dagli albume e una fialetta di vanillina o di vaniglia come preferite montiamo gli albumi a neve con un pizzico di sale e poi iniziamo con il montare i tuorli con lo zucchero a velo creiamo una bella cremina e andiamo ad aggiungere la farina e il cacao setacciando il tutto e infine aggiungiamo i nostri albumi e amalgamiamo tutto sempre dal basso verso l'alto mettiamo il composto su una teglia e lo stendiamo perfettamente inforniamo a 170 gradi per circa 10 minuti prepariamo la crema al latte con 200 ml di panna 175 grammi di latte condensato e 3 cucchiai di miele frulliamo il tutto e creiamo una bella crema densa nel frattempo ho tagliato i bordi diviso a metà il nostro pan biscotto e andiamo a mettere la crema al suo interno ed ecco pronta la bellissima kinder fetta al latte adatta per le merende dei vostri piccoli questa è la versione grande ma potete anche tagliarla a pezzettini e formare delle vere e proprie merendine i vostri figli mi andranno matti